Buongiorno, permesso, buongiorno, ciao, buongiorno, come stai Spoga? Tutto bene, e tu? Sei carica? Certo, di più? Ancora di più di quello che ti pensi a te, oh no, Matteo, se oggi qualcuno rompe le acque è lei, esatto, sono pronta, data prevista della nascita? Oggi, invece siamo qua. Sono qui con la truccatrice e la prima cosa che mi ha detto è stata, io ti seguo, dopo fai lo scherzo, a chi? È il nuovo format, fare lo scherzo alle truccatrici, sarai tu la prossima vittima. Ciao, 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 ciao. Vai, l'altra scarpa. Abbiamo appena finito la preparazione a casa della sposa e ora direzione chiesa. Oggi siamo in Cuga alla macchina di Matteo. Scusa ma cos'è sta cosa? È un po' guai. Noi stiamo seguendo lei vestita da festa. Abbiamo capito che probabilmente fa parte del matrimonio. Noi abbiamo seguito te. Ah si? Si perché abbiamo visto una vestita da festa così tu stai andando. Ma io ho sentito la voce, ho detto ma voi stai andando. O sta andando a una festa della Lega, ho detto che sia dell'arte così. Vado a tornare al matrimonio quindi speriamo. È emozionato. Buongiorno, tutto bene? Sì bene. Mio collega videomerci sì. Che meraviglia ragazzi. Buon lavoro. Grazie. Questo qua. Io esco. Voi state qua. Andiamo. Ecco. Eccola qua. Io Davide. Oltre te Francesca tu mi spolga. Davide, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Eccolo qua. Ecco, controller. Oh. Sule mani tutti! Perfetti. cerimonia in chiesa conclusa ora direzione Villa Godi Piovene mi sento molto tranquilla oggi chissà se questa sera torneremo a casa per andare in Villa sono tranquilla perché al massimo chiamiamo i colleghi ma al ritorno questo motore della Meglia 500 non è ieri Mister Bollani buongiorno siamo in compagnia di Lucina del Porto del suo wedding dream team per cominciare questo sabato nella splendida cornice di Villa Godi Piovene dove festeggeremo il matrimonio di Francesca e Davide in un contesto assolutamente fuori di testa signore e signori ci dispiace per voi che siete comodamente seduti sul divano ma oggi noi facciamo il disastro, ciao casino fino al mattino casino fino al mattino ciao Lucina ciao Lucina Mari guardate come mi devo mettere brava Federica brava imparata da Federica le foto vanno fatte a 90 è scontata 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 2, 1, vai! Bravissimi ragazzi! Madonna, che bello, che bravi! Ben dia, ma che mestiero, siamo stati a partire il primo ballo qua. Bella, sì sì sì, prendi pure l'iniziativa. Passiamo avanti, belli, sì 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 sì, bravissimi, bravo Davide, belli, proprio così ragazzi. Il velo, coglione! Il velo, coglione! Bella, che muovi il velo così. Mi piace, belli belli, ah che belli? Belli belli, belli! Vai, vai, rialza le gambe Francesca, sì 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 sì, belli! Sì, è morto, è tosso! Un'altra corsa? Sì, dai, sarebbe, aspetta, aspetta! Via! Belli sono i denti, guardate qui in alto, in alto, guardatevi voi due! Guardatevi! Eeeeee! Siamo carichi! Sì, è morto, è morto, è morto, è morto, è morto! Ma è detto primavera! Oh Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.